I sistemi di virtualizzazione Microsoft per il vostro data center Microsoft offre oggi due sistemi di virtualizzazione uno che è il classico Hyper-V incluso nelle licenze di Windows Server una soluzione che avete già probabilmente visto in tutti questi ultimi anni l'altra invece è una soluzione nuova di virtualizzazione ed iperconvergenza chiamata AsusTech HCI questa soluzione ha tutte le caratteristiche di un nuovo sistema di iperconvergenza quindi è più scalabile, più flessibile, più sicuro rispetto alla tradizionale creazione di macchine virtuali ma ha soprattutto due vantaggi in primis che è compatibile per la maggior parte degli hardware vendor che voi state utilizzando già quotidianamente ma soprattutto è già strettamente collegata al public cloud Azure e quindi è possibile integrare presso il vostro data center on-premise delle funzionalità tipiche del cloud come il backup, il disaster recovery la gestione delle macchine virtuali grazie a tutti